Io ho detto che non ha rigore, che la palla è stata in la faccia. Solo questo. La sensazione? È difficile accettare una situazione come questa, ma dobbiamo lavorare domani per il prossimo giorno. Non possiamo fare niente in questo momento. Non è giusto, ma è calcio. Non possiamo dimenticare che abbiamo giocato con il primo classificato del campionato germano. Ma penso che abbiamo fatto una buona partita con alcune occasioni per finire la partita con una vittoria. Non è facile con tutte le difficoltà che abbiamo, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita con grande sicurezza. Sicurezza. Sicurezza difensiva. Sempre la partita controllata. E dopo la situazione che ha originato il rigore. Posso dire che io sono una persona ottimista e positiva. Adesso sto pensando solo alla prossima partita. Dopo penseremo all'Europa League. Dobbiamo reagire. Che dobbiamo fare in questa situazione? Pensare alla prossima partita con Milan non è facile. Non è facile. I giocatori sono in spogliatoio devastati. Ma domani è altri giorni. Difficile non è accettare che Florenzi abbia sbagliato. Difficile è accettare il rigore. Questo è molto difficile di accettare.